Questo è un contenitore per la città di alimenta e la città di città come potete vedere non utilizzano le baghe composte ma quello che è tipico di Germania è il sistema di pagare come provi scelgo il volume, la frequenza e questo è tutto pagare un'efficienza diversa, secondo la tua decisione